Sono 149 positivi, 46 a Caltanissetta e i dati dei ricoveri in leggero aumento tiene la soglia dei contagi in città. Intanto in Sicilia, tornata in zona bianca da lunedì, la variante Omicron 2 copre il 40% delle infezioni. È bastata una settimana per riportare indietro le lancette della pandemia. Nell'isola che è tornata appunto in zona bianca i contagi aumentano del 39,9%, più della media nazionale e del 30% di incremento. Colpa della nuova variante Omicron 2 ormai responsabile della metà delle nuove infezioni dei focolai che hanno messo in ginocchio molti ospedali del Padermitano, facendo così risalire i posti letto occupati.